Giuseppe Bongiorno, vicepresidente di questa società, un sabato 3 agosto caldo oppure sei venuto a salutare i ragazzi? Assolutamente sì, ci ritroviamo qui come sempre bei carichi con tanti propositi e non vuol che essere così. Una nuova stagione, siamo consapevoli che abbiamo tutte le carte in regola per giocare un po' tra i protagonisti, poi come sempre vince uno solo, ma sicuramente abbiamo le carte in regola per far divertire il pubblico e ripeto, per giocare questo campionato tra i protagonisti. Certamente è un campionato difficile, molto equilibrato e nonostante altri paesi che stanno cercando di alzare la sticella come il Giappone e altri ancora comunque lo superere, resta e rimane di gran lunga il campionato più difficile e più bello. Una squadra fortemente rinnovata rispetto all'ascolta stagione, una nuova diagonale di palleggiatori, un nuovo centrale. Cosa ti aspetti di questa squadra? Io sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto dalla dirigenza nella costruzione di questa squadra. Il nostro gruppo che abbraccia questo progetto con i due brand Casseis e Blue Energy ha investito in maniera importante anche quest'anno giocando su un mix di esperienza ma anche di gioventù. Abbiamo due o tre giorni veramente molto promettenti e complessivamente io ritengo questa squadra più equilibrata, più consistente di quella della passata stagione. Ovviamente sarà compito poi del mister di massimizzare tutto questo. Grazie. Grazie. Grazie.